Ciao Fabio, sei d'accordo se diciamo che questa è la partita più importante dell'anno? Per come arriva? Sì, in assoluto, in assoluto è la partita la più importante per tanti motivi, come arriva, contro chi, l'avversario, il momento è la partita veramente importante ecco perché abbiamo bisogno, a parte della nostra prestazione, di un appoggio straordinario dal nostro pubblico più che mai, come è stato più di altre volte e dobbiamo andare oltre, chiaramente prima noi con il nostro atteggiamento, la nostra prestazione e poi il nostro pubblico Ecco, c'è da dire che loro fuori casa non hanno un grande cammino come in casa però c'è anche un pochino da lavare quella partita dell'andata in cui, forse è la partita che hanno vinto meno nettamente per quello che abbiamo messo noi in campo e per quell'episodio che c'è stato Ma quella partita mi rimane dentro e faccio fatica a cancellarla per cui, vogliamo dire un motivo in più? Sì, dai, un motivo in più perché è una partita definirei Balurda Balurda per come poi si è sviluppata, per quello che c'è stato dietro tutto e mi avviso la più grande prestazione per me in assoluto dell'Ellas Verona Che squadra è il Benevento? Una squadra di... non è un caso che si trova lì sopra se vogliamo definire una squadra di... in avanti di grande qualità di giocatori importanti che abbinano il gioco corto alla profondità perché hanno giocatori che sono in grado, c'era, di attaccare molto bene la profondità supportati da una buona fase difensiva non per niente è una delle migliori difese del campionato Tatticamente, quello che abbiamo visto nell'ultima partita è una cosa che ti è piaciuta che puoi riutilizzare è stata estemporanea legata alla partita con la Salernitana perché ti andava di giocare così? Ma noi l'abbiamo fatto già diverse volte domenica dopo 20 minuti ho ricambiato per cui, sì, è vero, sono partito in quel modo vorrei che la mia squadra da qui in avanti lo facesse ancora con più disimoltura basta anche un segno dalla panchina e invertire il vertice perché in base al momento della gara in base a quello che percepisco e quello che vedo per cui non deve essere una cosa estemporanea anche perché non l'è stata insomma, ha già delle basi dietro per cui mi è piaciuta quando ci deve dare l'equilibrio ci deve dare anche la ricerca di Daniel tra le linee diciamo che è una cosa che si veramente, la posso riproporre senza problemi Direttore, ieri ti ha messo un po' di pressione perché ha detto togliamo la parola provare a vincere e adesso dobbiamo vincere Ma della pressione, guarda io non la sento perché dal primo giorno qui nessuno dice niente vai facciamo il campionato per cui io è una parola che per me non l'ho mai sentita e quindi al di là di questo io vivo alla giornata chiaramente programmando il lavoro di una squadra di una crescita di una squadra io penso alla partita del Benevento a quello che deve succedere a Benevento poi tutto il resto è come se non esistesse per cui noi pensiamo a una gara pensiamo a preparare nel migliore dei modi sotto ogni punto di vista psicologico, tattico, fisico e affrontarla con grande forza Hai già detto a loro la formazione chi gioca domani o aspetti? Domani mattina abbiamo ancora un piccolo però insomma per me questo è un dettaglio gioca uno, gioca l'altro deve essere l'identità la squadra non deve mai perderla deve continuare a fare le cose che sa fare per cui al di là di chi scendere in campo voglio 11 giocatori in grado di affrontarla con grande, grande personalità Dopo Latina sei ancora convinto che Gomez sia il nostro clon d'acquisto? Questo non è il fatto che poi abbiamo anche fatto la battuta è meglio tenerlo o utilizzarlo continuo a dirlo dei miei giocatori visto che è finito per fortuna il mercato sono i migliori e io non li cambio con nessuno ma in maniera che poi Guanito lo so benissimo il suo percorso di crescita come deve essere crescita più che altro di condizione e io voglio gestire nel migliore dei modi io continuo a dire che Guanito è il giocatore più importante Ciao mister Ciao A proposito di mercato visto che c'è anche il direttore qui quindi la risposta sarà sì soddisfatto di quello che è stato fatto nel senso che sono state prese le pedine che servivano nelle zone che servivano a essere rinforzate Io non sono mai abituato almeno per quello che è la mia esperienza e quello che ho vissuto io l'allenatore allena poi il direttore fa le squadre costruisce io devo allenare un gruppo e l'allenatore deve essere il direttore deve essere in grado di valutare la rosa e di quello che abbiamo bisogno a livello numerico dietro l'abbiamo sempre detto c'è stato l'equivoco se vogliamo dire della situazione di Albertazzi perché ritornava da un infortunio e quindi dobbiamo valutare mentre l'inserimento di Ferrari ci permette mi permette di avere un centrale ma anche un laterale un terzino per cui questo va a completare il reparto in maniera un po' più come dire più equilibrata e quindi con Zucco invece abbiamo messo un po' più di energie Ci credi molto in fare se mi pari di capire insomma Beh io credo che Momo sia un patrimonio ne avevamo parlato prima della settimana ma un patrimonio della società così come Zaccagni Valotti e potrebbe essere insomma Boldo perché questa squadra deve vincere valorizzando anche dei giovani questo è il nostro obiettivo valorizzare il patrimonio della società e vedo che è sempre più difficile riuscire a combinare le due cose noi ci proviamo ci sta dando anche dei risultati importanti con Momo con questi giovani io continuo a dire che la crescita deve essere graduale bisogna avere pazienza e per me Momo le prime due partite le ha giocate titolare poi rimanere fuori dal giro per tanto tempo non importa io l'ho visto allenare tutti i giorni lo vedo allenare tutti i giorni per cui io credo che un giocatore possa darci veramente una mano qual è stata la lezione di Benevento io Benevento direi toglierei tre minuti non di più e poi vedo una prestazione bellissima ne vado fiero però mi ha lasciato molta rabbia perché giocare in dieci novanta minuti e tenere una squadra lì sotto pressione creando tanto con disimoltura con personalità con voglia di sacrificio in un momento particolare della stagione dove la condizione non era ancora meglio la seconda terza di campionato per cui mi ha lasciato grande ma questo ha lasciato in tutti noi grande grande rabbia ascoltavo le parole di Baroni diceva che la sua squadra fa fatica a giocare in difesa quindi immagino sarà una partita aperta non so se è un vantaggio o uno svantaggio ognuno fa la sua partita cerca di sviluppare le proprie caratteristiche Baroni cerca di utilizzare i suoi giocatori tenendo gli ha dato un'identità alla squadra una squadra che è chiara molto chiara verrà a giocarsela qui a Verona e noi faremo del resto quello che sappiamo fare lo abbiamo fatto sempre e vedremo la partita come uscirà domani mattina poi insomma c'è la rifinitura quindi li vedi tutti quanti mi pare di capire che Ganze e Valotti non ci saranno c'è qualche altro defezione no tutto bene per fortuna sono loro due per io credo ci portiamo dietro questo mese duro di gennaio in cui anzi abbiamo rischiato qualcos'altro e però adesso con il clima ci sta aiutando ci sta permettendo di allenare su un terreno diverso io credo insomma che per loro due un recupero non molto lungo quindi non mi sembra una cosa grave ma sicuramente non saranno con noi hai convocato il Bente Godi prima praticamente beh ma noi non ne abbiamo bisogno e questo è una mia e insisterò perché per vincere abbiamo bisogno di tutti chiaramente della squadra che scende in campo ma poi di un pubblico in grado di trascinare di spingersi perché vincere vuol dire anche saper soffrire saper gestire i momenti di difficoltà e durante la gara ci può essere durante la stagione ci può essere noi ne abbiamo estremamente bisogno perché con tutto il rispetto per altri stadi insomma avere 18.000 persone 20.000 persone allo stadio credo sia una cosa difficile anche in Serie A per cui questa deve essere un'arma in più importante